Musica 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 Grazie per la visione 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 Grazie a tutti 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 Il y a 3 razioni per le quali che io avrei chiesto questo titolo. All'abord perché «Les Hommes sono dei sali» c'era la serie in cui c'erano il y avuto il più di texti del espectacle. Quindi ci parla molto dei hommes e dei femmes. In tutto caso tutta la seconda parte. Come dire più sinceremente. C'è guarda il titolo «Les Hommes sono dei sali» non solo perché questa serie compta per almeno moitié di tutto il espectacle. C'è anche una forma un po' di tourno e raccola di attirare i ragazzi e di les amener, al principio, magari un po' di loro, di essere confrontati a di la poesia e di la rime. Quindi c'è non tanto il soggetto che sia forsemente polimico e che era interessante, ma c'era veramente, sì, per attirare i ragazzi. E quindi dopo questo spettacolo, ti compti per continuare la poesia per questa settimana, in te progetti o hai altre ambizioni? Allora, «Les Hommes sono dei sali» è soprattutto sotto sa forma a l'IFM. Ça viene cloturare un cycle d'écriture. In ce qui concerne la poesia, j'en ferai ancora, perché c'è agréable d'en fare, ne serait-ce che per me. Io passi a un altro cycle d'écriture, due altri cycles che io faccio di front. Il primo sarà la pièce di teatro, se io arrivo. E parallelamente, io mi sono lancato in l'écritura di un romanzo. Non, 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 Rambi, du tonist solo alla giornata Grazie a tutti 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 Grazie a tutti